Salve, il mio nome è Maria, sono una delle progettiste di Arete di Art of Design. Volevo introdurvi in questa azienda che è esperta di ristrutturazione in cucine e bagni, ma anche molto altro, come controsoffitti, pavimenti e altro. Questa azienda dal 2001 ha ristrutturato oltre mille progetti residenziali e commerciali e ancora oggi siamo un segno di qualità. Tra l'altro Arete in greco significa qualità. Nel nostro negozio abbiamo una scelta vasta di materiali che servono per il vostro progetto. Potete sempre venire a trovarci al nostro indirizzo. Nel nostro team abbiamo persone che vengono da diverse parti del mondo e che tra l'altro parlano diverse lingue. Per questo motivo io sono qua oggi a introdurvi la nostra azienda della lingua italiana.